Il tuo cambio ha contribuito anche a questi tre punti, immagino che c'è grande soddisfazione sia personale che di squadra. Sì, certo, comunque sono giovane, c'è molto da imparare, soprattutto da Erpen che sono il suo sostituto e per fortuna mi faccio trovare sempre pronto anche all'89 e sono contento sia per me che per la squadra. 5 partite, 11 punti, siete ancora imbattuti, state andando oltre ogni più rosa e aspettativa, ve l'aspettatevate voi? No, perché comunque siamo partiti con tante difficoltà e comunque questa squadra ha come caratteristica, l'ho detto anche prima, la grinta, la voglia e comunque questo ci ha aiutato molto, soprattutto quando ci sono delle partite difficili come queste. Abbiamo vinto e speriamo di vincere ancora. Abbiamo vinto e speriamo di vincere ancora.